I geni si tramandano! La lista adesso è riconosciuta! La lista è mia! La lista non muore mai! Per i sordi l'ostacolo più grande da superare è quello di imparare a parlare perché per capelli gli altri possono leggere il labiale, per la tv ci sono i sottotitoli. Per molti anni si è affidata la soluzione di questo problema alla lingua dei segni. Oggi però la medicina è in grado con le protesi e con la logopedia di insegnare la parola anche al sordo più profondo, è così? Certamente è così, è così questo grazie veramente ai protocolli di screening uditivo che sono presenti a livello nazionale anche se in maniera ovviamente non così omogenea, al punto tale da riuscire ad arrivare a una diagnosi precoce già a tre mesi e quindi ha la possibilità di intervenire precocemente con le protesi acustiche già entro i 4-5 mesi e quindi addirittura la possibilità di arrivare a un impianto cocleare laddove è necessario, laddove è bisogno per arrivare veramente all'acquisizione della parola. Io sono un ragazzo sordo profondo, però grazie a un procedimento fin da bambino riesco a parlare come una persona normale senza allugio di gesti, solo con le parole e aiutandomi con il labiale. Se poi tutti imparano a parlare, alla fine questa espressione della lingua dei segni a cosa serve? Può servire in una minoranza di casi in cui ci sono delle difficoltà. Lei cosa ne pensa della proposta di legge supportata dall'ENS, l'ente nazionale sordi per il riconoscimento della lingua dei segni a livello nazionale? Noi siamo assolutamente contrari al riconoscimento della LIS e all'uso della LIS fin dai neonati. Con questa legge se lo Stato riconosce che è una lingua, loro metteranno gli interpreti, giustamente lo dice la legge, in tutti gli uffici pubblici dello Stato, in tutti i comuni, in tutte le asle, in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Un bambino che nasce sordo profondo nel 2014, se vuole, può grazie alla medicina imparare a parlare e essere semplicemente oralista. Come può imparare a parlare? Ora la glucopedia, come ho fatto io, praticamente... Ce la può fare. Sì, praticamente no, che ce la può fare nel 100%, però può farsi capire. Essere orgoglioso, nel senso di essere di persona sorta, ma a dire, a farsi capire perché altro riesco, come sono riuscito io. Anche il bambino se parla, però come comunicazione completa, per ascoltare, serve sempre la risposta. Soltanto che non tutti ce la possono fare, perché ho visto anche ora, nel 2014, alcune persone sordine non riescono anche a pronunciare una parola correttamente o con i tempi, divante sempre dalla voce. Allora la mia famiglia, nel momento in cui sono nata, hanno visto che era più giusto fare un percorso di educazione linguistica e non del segno, magari. Ha smesso lei il percorso, perché il babbo dentro l'ufficio, come privato, lo portava in confidenza, diceva prova, 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 guarda quello che ti serve, poi discussioni. E poi abbiamo scoperto che lei ha deciso di imparare la lista, perché era più semplice per lei e soprattutto gli dava più ricchezza, perché l'udente già le aveva insegnato la logopedia quello che poteva. Voi avete fatto anche un preventivo del costo che avrebbe mettere un interprete in ogni ufficio pubblico? Abbiamo fatto un calcolo che è sicuramente per difetto, l'importo è circa 400 milioni di euro l'anno. Se passasse la legge che voi avete proposto, una delle prime conseguenze sarebbe quella che in ogni ufficio pubblico andrebbe un interprete. Come costi c'è sempre un impatto, diciamo, su un'incidenza dei costi, soltanto che anche bisogna ricordarsi di un'altra cosa, non sempre si deve parlare dei costi, quanto si tratta del diritto della persona. Ho trovato questo lavoro, tramite la signora che ci conosceva da tanti anni prima, ho trovato il mio mondo. Mi rivolto la R, quando mi insegnavano la R, per me era un po'... Di la R per me era un po'... Quando l'ho imparata, si stava la chiamata a diritto, lo diceva anche la nostra. Perché a me la parola è brutta. No, non è che è brutta, però un po' meno, ci tentiamo un po' meno, è più casino. Noi come associazione è da tantissimi anni che cerchiamo di far capire ai nostri politici quanto sarebbe fondamentale avere un punto di riferimento in ogni provincia italiana. Perché chiaramente il bambino che fin da neonato deve seguire un percorso con la logopedista, se ha la logopedista a 200 km di distanza, lei capisce che la vita familiare diventa faticosa. Quindi se i soldi investiti per la LIS fossero investiti per la prevenzione e per la riabilitazione, secondo lei sarebbe... E certo, risolveremmo i problemi di tutti i bambini. Però in realtà, sentire l'audizione dell'ENS nella Camera dei Deputati al gennaio 2014, voi proponete la LIS come progetto di vita, cioè voi la proponete come soluzione alla sordità che può sopravvivere anche senza l'oralismo, è così? No, non diciamo questo, noi includiamo con la lista dentro la proposta del decreto legge 1151, proponiamo tutte le varie forme per la persona sorta. Non sarebbe meglio spendere questi soldi per insegnarli meglio a parlare, per insegnare a tutti a parlare, per renderli autonomi e integrati? No, nel senso di mettere questo è anche, diciamo, come che noi dobbiamo cambiare per gli altri, invece gli altri dovrebbero essere... Come cambiare, come aiutarci noi, essere inclusi nella società, cioè noi che ne siamo diciamo, la società dobbiamo cambiare per diventare per gli altri. Come contesto che serve solo la parola, serve anche la libertà di usare il servizio. Se io voglio la LIS, il servizio ci deve essere a prescindere. Lei mi dice, il diritto ci vuole, il diritto di scegliere la LIS ci vuole, a prescindere dal fatto che sia necessario o no. Perché ci deve essere. Grazie a tutti.